Andrea è uno molto fighettino che si toglie le sopracciglia con la pinzetta, si mette il mascara si tinge, inizialmente il rapporto tra lui e la figlia è molto contrastato, cioè nel senso che comunque lui non la vuole questa figlia, non sa come fare il padre, non vuole cambiare la propria vita, non vuole cambiare il suo stile di vita. L'hai leccola, io o l'hai leccolo? L'hai leccola? L'hai leccola, io o l'hai leccola?